Sono dottor Gabriela Silvana Vasilescu, laureata in medicina e chirurgia a Carol Davila di Bucarest. Ho fatto la specializzazione in medicina estetica e del benessere all'Istituto di Alta Formazione a Roma. Ho scelto la Clinique per il tipo di organizzazione, per la serietà negli impieghi e per la possibilità di migliorare e di avere una crescita sia a livello personale che a livello professionale. I miei campi prediletti sono il rimodellamento del viso e il rimodellamento corporeo con l'acido ialuronico, specie macrolane, la parte vascolare, quindi sia la diagnostica che la parte intervettistica vascolare e la risoluzione dei danni estetici fatti precedentemente presso altri interventi di medicina e chirurgia estetica. Ho scelto la medicina estetica e la microinterventistica a livello della medicina estetica perché mi piace interagire con la paziente, capire le sue esigenze sia a livello estetico che a livello personale. Seguo la paziente a 360 gradi e mi piace creare dei piani integrati sia di trattamento che di mantenimento e cura.